l nanzali ma non voglio neanche vederla non voglio neanche vederla ecco cosi cosi madonna anche per accia ti hai tratto al cuscino come un nessun figlio amico ci parla chiama bu bu che nome di merda che hai dato è un babbuino madonna guarda lì questo lo chiama bu no non è un babbuino no lei è un babbuino una donna è un babbuino una donna è un babbuino un babbuino è stata un pochino con un figlio addio ma la sei un po' tetto fra veramente se hai usato il testo qui si autodistrugge ma perchè non funziona questa leva si tira mi hanno ucciso mi hanno ucciso qualcuno mi ha ucciso io no sono sulla david no ma io sono con david sono fatto con david finora non da te la parola david diglielo è cara è cara è cara no cara ci è morto davanti agli occhi ok è fra è fra è fra ok io ho preso il cecchino ho un cecchino e non ho paura di usarlo ok 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 perchè sta mirandato il cecchino qua ma è fra per forte secondo me è coca e guarda no è fra forte mi ha sparato perchè è un coglione secondo me è coca davide dove sono stato finora no è fra che cazzo che cazzo guarda che bastardo si ciao nooo analizzami analizzami ok devi framer la leva ok è verde ok è entrata in te adesso ok è giusto magari non premete il tasto se sono nooo ok scusa non sapevo come funzionava ti ho detto non premere il tasto non sapevo lo sapevo ce l'ho scommesso è uguale è uguale è uguale è uguale è bellissimo lui che ha fatto non premete la leva boom dai il tasto non premere il tasto ok ma perchè non sapevo come ragiona se mi decidi non fare una cosa io la faccio è uguale